Buongiorno, amore, buongiorno, sta cercando di parcheggio, cioè di pagare il parcheggio Stamattina siamo venuti, fino a che è aperto? È alle 6, o alle 5 Stamattina siamo venuti allo zoo Allo zoo, qui a Zurigo c'è uno zoo grandissimo, veramente grande, dove praticamente hanno rappresentato un po' gli ambienti naturali Giusto per questo abbiamo potuto capire, e adesso entriamo Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Mi sta piacendo lo zoo? Bellissimo, c'è anche i 4 morsi di zanzara però Adesso dobbiamo vedere gli elefanti e alle 13.45 li fanno mangiare Quindi assisteremo alla loro... Ci sto a una cosa o due Sono bellissimi, sono 5 elefanti, un maschio e 4 femmine e la femmina è la più vecchia Quanti anni ha? Quanti anni ha? Quanti anni ha? 50 anni 50 anni Si Grazie a tutti. 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 Noi siamo arrivati a Lucerna. mio marito. come vi dicevo, è stato un mese intero. a gennaio a gennaio. E adesso vi porto a vedere un pochino la città vecchia, giusto? a parte storico la parte storica di Lucerna. è veramente una città bellissima. è stato un pochino. è stato un pochino la città, giusto? è stato un pochino. è stato un pochino. è stato un pochino. è stato un pochino. luciata. Il bassammerone. E poi quello, vedete che era? Limpone. No, lampone. Guardate, il bassammerone ci stanno pure i semi di sopra. Grazie a tutti. 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 Quindi vi mando un bacio, vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!